Morte per Covid o morte economica? È l'interrogativo che si pongono i membri dell'Associazione Ristoritalia, che assieme a tutto il personale dell'Oreca, bar, ristoranti e di tutte le attività di settore, nella giornata di oggi si sono riuniti sul ponte Calatrava a Lido di Fano per un flash mob, in segno di protesta contro le ultime disposizioni prese dal governo Conte. È l'ennesima levata di scudi di un settore ormai in ginocchio e che fa parte di una manifestazione più ampia dal respiro addirittura mondiale. Viene fatto in tanti ponti, chiaramente pedonabili perché chiaramente non possiamo intracciare il traffico di gente che magari lavora, ponti pedonabili in tutta Italia. Facciamo un flash mob proprio per salvare la ristorazione perché chiaramente lavorare solo al pranzo per noi vuol dire praticamente la morte certa e se non ci concedono almeno fino alle 22, fra tre mesi troveremo dei morti per terra, ma non per Covid, però per una questione economica. Nei locali ci si può andare, siamo sani, siamo puliti, siamo in regola, perciò non fate una campagna contraria al nostro lavoro. Noi se fino ad oggi ci hanno dipinto come gli untori del settore, non lo siamo, noi abbiamo sempre rispettato tutto, fin dal primo all'ultimo decreto, l'abbiamo sempre rispettato, perciò aiutate anche voi a portare avanti questa nostra campagna. Noi cuciniamo e voi ci avete fritto, recita lo striscione sventolato dai ristoratori, simbolo di una protesta pacifica per rimarcare ancora una volta quanto il settore si trovi in difficoltà e quanto siano necessari gli aiuti che però tardano sempre più ad arrivare. Nel momento in cui vediamo che c'è uno scollamento veramente imprescindibile, perché noi abbiamo cercato anche di attuare una politica di dialogo con delle istituzioni e abbiamo avuto grosse difficoltà, questo va ammesso e sappiamo quanto sia faticoso gestire uno Stato, un paese, una regione, sappiamo quali sono le problematiche e l'ingente denaro che lo Stato ha bisogno di gestire per noi e per i nostri settori, ma è una catena. Allora, chiudo il ragionamento dicendo, purtroppo abbiamo dimostrato in questi mesi che stiamo attenti a tutte le condizioni, ma qui sta emergendo e forse non è palesabile una problematica molto grande a livello economico. Ora, da qui ai prossimi 60-90 giorni, se non ci sono delle prese di posizione molto importanti, vengono fuori dei drammi economici. Qui una piccola rappresentanza, siamo migliaia, non abbiamo nessuna necessità e voglia di andare in piazza a far vedere ciò che non siamo, a mettere a ferro e fuoco le piazze o a alzarci di tono, ma bisogna che qualcuno ci ascolti. Vogliono slittare questi ristori già dal 15 novembre al 15 dicembre, probabilmente perché aspettano che prima paghiamo le tasse e poi ci ridanno i nostri soldi delle tasse che abbiamo pagato, non mi sembra una cosa molto corretta in buona sostanza, però chi vivrà vedrà.